Van Gogh, pittore colto, è il titolo di una mostra al Mudeck che vuole ridare vita e luce a un aspetto poco conosciuto, cioè la sua passione per i libri. Era un lettore onnivoro, per lui i libri erano la vita. Lui rimane sempre artista lettore che si mette in dialogo interiore con l'artista scrittore. Ci sono delle vetrine a tema che accompagnano il visitatore a capire la profondità delle letture di Van Gogh. Qui alle mie spalle vediamo Natura Morta con statuetta e libri, un quadro straordinario. Qui c'è anche un concentrato di novità dal punto di vista compositivo, ha verticalizzato la tela e dunque è un ritratto. Al centro ci sono i libri che sono i veri attori. L'oggetto in sé non aveva valore per lui, la sua biblioteca l'aveva in festa. Grazie a tutti.